Prima di proseguire con l'episodio voglio ringraziare i nostri gentilissimi sponsor per dare supporto a Japan Wildlife ma anche a tutti gli altri nostri podcast, quindi un enorme grazie va alla Sinfonia del Gusto, il ristorante di Viale Reggio Emilia 17 a Roma, poi anche alla Guest House Dirim che opera sia a Roma che in Sicilia, anche io sono stata ospite, e infine al centro eventi Granduomo che si trova nel cuore della bellissima Catania, quindi un enorme grazie e buon proseguimento di ascolto. Japan Wildlife Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime e manga in Giappone, io sono Alessia e oggi sono di nuovo in compagnia e sono stracontenta perché c'è con me finalmente un esempio di mangaka italiana, ciao Giulia. Ciao, ciao a tutti, grazie mille di avermi invitata. Io ho portato te, Giulia, Giulia della Ciana in arte Mew, per chi non la conoscesse, proprio perché sei un esempio di, diciamo, persona che ce l'ha fatta, se vogliamo metterla così, sì col fumetto ma in particolare proprio in tecnica manga e siccome nelle ultime puntate di Japan Wildlife abbiamo parlato di questo argomento, ho pensato che fossi praticamente lo step successivo da portare per chi ci ascolta, perché hai tanto da dire, ti vedo sia su Instagram che TikTok, anche in modo particolare, credo, insomma, spiegare non solo il tuo manga in particolare, di cui parleremo, ma proprio in generale questo approccio italiano allo stile giapponese, che è quello del manga e quindi, insomma, ci racconterai un po' meglio la tua esperienza. Assolutamente. Però dimmi, esatto, dimmi tu intanto come vuoi presentarti a tutti quanti, dici cosa fai appunto nella vita, anche se ormai si è capito, però magari parla. Più o meno è il tasto inerato, dai, però facciamo questa presentazione ufficiale. Ciao a tutti, sono Giulia della Ciana in arte Mew, come ha detto Alessia, e da circa nove anni lavoro attivamente come mangaka. Ho una serie che ormai si può dire conclusa, che si chiama Butterfly Effect, e niente, è stata praticamente il fulcro di tutti questi anni di lavoro, perché ho lavorato solo a quella, fino a, diciamo, novembre. Che però, insomma, è tanti anni, perché nel rileggerla mi sono resa conto che forse è partita tipo nel 2014, vero? Quindi, ecco, sono quasi una decina di anni e io sono rimasta impressionata, ma l'ho realizzato solo, appunto, notando certi dettagli, tipo il Nintendo DS e non la Switch, magari. Esatto, il cellulare, con i tasti. Poi, la storia è anche ambientata prima, la storia è ambientata nel 2011. È vero, perché un altro dettaglio che ho visto, proprio sempre di recente, è che c'è addirittura MSN, cioè qua dimostriamo anche un po' la nostra età. Gli ultimi anni di MSN, proprio poco prima che chiudesse. Esatto, infatti, secondo me, cioè, perché io ho realizzato alcune cose così, proprio nel passare di questi dieci anni in cui si è sviluppata la serie, però, in realtà, penso che chi adesso si avvicini, cioè, forse capisce metà di questi riferimenti. Perché, relativamente, secondo me, perché, per esempio, è stato divertentissimo passare da MSN a Facebook con i social che utilizzano i personaggi e a un certo punto c'è la protagonista che dice, vabbè, dai, almeno questo social non ha i trilli, perché su MSN c'erano i trilli che ti scassavano sempre, perché qualcuno voleva attirare la tua attenzione, questi maldetti trilli. E' bello vedere questo sviluppo, appunto, del manga anche negli anni, che poi, in effetti, è quello che succede anche ai manga giapponesi, che durano secoli e secoli, perché una cosa che differenzia, adesso ci dirai meglio, del tuo percorso per diventare fumettista, però si può già dire che, e i nostri ascoltatori già lo sanno ormai, che il fumetto manga in Italia ha sicuramente dei ritmi molto diversi da quelli giapponesi, quindi, cioè, pensare che comunque nel tuo caso ci sia potuto essere questa specie di evoluzione generazionale, mettiamola così, è interessante e comunque dimostra, in realtà, l'ottimo successo che ha avuto la tua serie. Quindi, adesso voglio lasciarti parola proprio per spiegare tutto il tuo percorso nel mondo del fumetto, del manga, perché hai deciso, quindi mi chiedo anche, no, di diventare tu una fumettista, perché in effetti è anche un argomento che affronti un pochettino in Butterfly Effect. Sì, praticamente è una parte della mia vita, Butterfly Effect nasce come opera quasi autobiografica, ovviamente con tutte le modifiche, chiaramente, del caso, perché bisognava romanzarla, bisognava, ovviamente, estromettere persone reali per quanto possibile, di alcune ho avuto il permesso, perché sono ancora miei carissimi amici, altre persone chiaramente no, quindi ho modificato più personaggi possibili, ma traendo comunque ispirazione da fatti e avvenimenti, insomma, che sono successi a me in prima persona e che mi hanno dato tanto, mi hanno fatto penare, ma io sono una accanitissima fan di Fullmetal Alchemist e quindi proprio sposo la teoria per cui senza dolore non si può imparare nulla dalla vita e quindi sì, le mie protagoniste le mazzolo tantissimo, gliene capiteranno di tutti i colori, perché la vita in fondo questo fa, però da questo poi trarranno dei giusti insegnamenti per maturare come persone proprio al di là della storia romantica che comunque è importantissima per arrivare a questo concetto, perché senza il loro amore non si potrebbero loro due sviluppare così tanto come esseri, come individui, perché comunque prima di incontrarsi è come se non vivessero a pieno la loro vita, quindi nel momento in cui si incontrano, piano piano riescono a colmarsi dei vuoti a vicenda e quindi vivere a pieno la loro vita, di conseguenza anche maturare come persone e voler raggiungere anche degli obiettivi eccetera eccetera. Come dicevi tu è stata tosta in questi anni perché comunque io non ho assistenti come in Giappone, io ma anche tutti gli altri miei colleghi italiani, purtroppo qui in Italia non c'è questa catena di montaggio fantastica che c'è in Giappone per cui hai che ne so tre quattro assistenti che ti aiutano, ti fanno le cose e poi sono pure assistenti bravi, formati che comunque diciamo sono proprio al top del top e anzi spesso valorizzano ancora di più il lavoro del mangaka. In Italia già noi siamo pochi, trovare degli assistenti che siano comunque ben formati e a cui non devi stare lì giorni e giorni e giorni a spiegare magari tutto il lavoro che poi ti porta via il doppio del tempo non ci sono. Oltretutto in Giappone funziona che il mangaka viene stipendiato e la metà del suo stipendio serve per pagare gli assistenti. In Italia non c'è neanche lo stipendio per i mangaka, noi veniamo pagati a royalties, quindi c'è anche un ostacolo più vendi e più guadagni chiaramente. Io negli anni sono riuscita anche grazie a TikTok, Instagram eccetera a farmi un grosso pubblico e grazie a quello vendo abbastanza da sostenermi. Ma è tutto un po' lì perché nel momento in cui passa la moda o le persone si dimenticano del mio manga a un certo punto io potrei non vendere più. Quindi è sempre un po' una vita in bilico tra santi e falsi dei per citare una canzone. Chi l'ha colta spero, fateci sapere perché bisogna mettere nei link descrizione anche la canzone. Così ve la potete ritrovare, ascoltare. Però quindi come mai tu sapendo tutte queste difficoltà alla fine comunque hai deciso di intraprendere sto percorso? Allora, a mia discolpa posso dire che... No, scherzo, ok? Io non sapevo in realtà quello a cui andavo incontro o meglio lo sospettavo, lo sospettavo però questo mio percorso è stato molto naturale. Cioè io non è che mi sono svegliata un giorno a caso completamente tipo random e ho detto voglio fare la mangaka. No, fin da piccola io ho sempre disegnato soprattutto manga perché ero influenzata tantissimo dagli anime, dai manga, da quel tipo proprio di narrazione, di grafica eccetera. Quindi di conseguenza per me è sempre stato naturalissimo esprimermi in quel modo. Ho iniziato tipo a 14 anni a pubblicare delle paginine disegnate male sui forum quando c'erano forum free e forum community e da lì ho continuato perché vedevo che c'erano persone che mi davano il sostegno online. Purtroppo la stessa cosa non posso dire della vita reale però l'internet quando ancora era un bel posto diciamo è stato molto utile. Ti capisco. È stato assolutamente importantissimo per me e le persone che mi hanno dato sostegno in questi anni sono state importanti per darmi la forza di crederci, di crederci anche se le prospettive diciamo non erano rose. Fortunatamente nel periodo in cui uscivo dalla scuola di manga, di tecnica manga, sono stata vista dall'editore. Perché questo? Perché sempre perché non l'ho ponderato ma è venuto un po' per caso io mi ero interessata tantissimo alle pagine Facebook a cui tempi andavano veramente forte e quindi avevo iniziato a pubblicare tutti i miei disegni. Questa pagina Facebook cresceva, 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 c'aveva migliaia. Forse l'ho conosciuta così ora che ci penso. Eh sì, aveva migliaia di follower, un sacco di commenti, interazione, mi piace. Insomma c'era una bella community in questa pagina e il mio editore mi ha notata tramite questa pagina. Ha visto che i disegni gli piacevano, poi c'erano anche delle tavole che avevo pubblicato perché in quel periodo lavoravo anche per una rivista fanzine con degli altri ragazzi, degli altri autori. E quindi qualche capitolo l'avevo già fatto, ok? Non era proprio sta cosa incredibile, però c'era. E quindi vedendo qualche pagina il mio editore si è interessato e mi ha detto proponimi qualcosa perché vorrei pubblicarti. Io onestamente non sapevo se saltare di gioia oppure credere al fake più fake incredibile della storia dei troll. Allora ho detto aspetta, fermiamoci un attimo. Chi è questa persona? Qual è la sua società? Insomma ho cominciato a fare tutte le ricerche del caso. Mi sono poi resa conto che effettivamente era un editore vero che aveva questo sogno di pubblicare manga italiani. Incredibile. Cioè fino a due giorni prima tutti mi dicevano guarda che col manga non andrai da nessuna parte, non farai mai nulla, il manga non vende. Cosa è che sentirle adesso, dopo dieci anni che praticamente il manga ha successato tutti i tipi di fumetto che esistono al mondo, però vabbè il manga non vende, non andrai da nessuna parte. Diciamo che è stato lungimirante, devo dire, il tuo editore che vabbè diciamolo perché non è un segreto. Io anche qua il tuo fumetto lo volevo mostrare, anche dietro di te c'è un poster meraviglioso. Questo comunque è edito da Manga Senpai che in effetti è uno, diciamo, un pioniere del manga italiano. Sì, è stato il primo a portare manga in Italia. Poi adesso ci sono tante altre case editrici che vogliono pubblicare manga italiani. Però sì, Manga Senpai è stata proprio la prima che si è interessata ad aprire questo mercato. Quindi posso dire che il mio editore è stato un pioniere. E niente, poi è andata così, nel senso che ho iniziato a pubblicare, che avevo vent'anni. È andata così? Sì, sono partita e non mi sono più fermata sostanzialmente. I primi due anni ho avuto una ritmica di un volume all'anno. Poi ho iniziato a farne due, due all'anno, perché volevo accorciare i tempi di pubblicazione. Perché io sapevo che la mia storia avrebbe avuto circa una decina di volumi, se non di più. E quindi ho detto, cioè, se non mi sbrigo qui, finisco fra dieci anni. Che poi alla fine comunque è andata più o meno così. Perché poi sono circa due anni e mezzo ormai che vivo da sola. E quindi ho dovuto ricominciare a produrre un volume l'anno. Quindi diciamo che per un periodo ho messo il boost e ho fatto due volumi all'anno. Ma poi con le incombenze di casa, gli animali e tutto quanto, sono dovuta ritornare a un volume l'anno. Il mio sogno nel cassetto è riuscire a sistemare tutte le cose di casa, traslochi vari, ristrutturazioni varie, in modo da poter lavorare bene nel mio studio almeno otto ore al giorno. Di conseguenza riuscire di nuovo a pubblicare due volumi l'anno. Sarebbe tipo il sogno nel cassetto per adesso. Però vediamo insomma quello che si riesce a fare. Come si evolve anche secondo me proprio il mercato a questo punto perché come dici tu se effettivamente ora ci si sta rendendo conto e sto cercando di farlo capire anche io con questi episodi del podcast che il manga italiano esiste, vale la pena leggerlo e insomma dare una chance a dei ragazzi che in ogni caso vogliono lavorare nel mondo del fumetto. Semplicemente proprio hanno scelto una tecnica. Quindi perché diciamo negare la possibilità solo per motivi un po' anche secondo me limitanti. E vedo che tu hai pesato, che tu spesso cerchi di combattere. Io ci lotto costantemente tutti i giorni. Come hai fatto notare prima soprattutto su TikTok, perché il motivo è molto chiaro in realtà. Su TikTok il pubblico è vastissimo. E mentre sul mio Instagram io le persone le ho educate tra molte virgolette negli anni. E quindi tutti quelli che mi seguono vedono i post, vedono le storie, mi fanno domande, mi scrivono i messaggi privati. Quindi comunque poi vabbè mi sono venuti a trovare le fiere. Quindi su Instagram ho un pubblico molto fidelizzato se vogliamo dire. E quindi sono vita, morte e miracoli di questa questione del manga italiano, di quanto ci battiamo, eccetera, eccetera. Su TikTok il pubblico non si fidelizza. Loro praticamente scorrono video e non è che vengono... La struttura proprio di TikTok non ti permette di fare questa cosa qui. Tu hai il profilo, eccetera, eccetera. Però se la prima home page che ti capita è di cose random, piuttosto che di cose che segui, chiaramente questo limita la fidelizzazione. E quindi mi è toccato fare tantissimi video, ma proprio tanti, in cui spiegavo che manga e fumetto sì, sono la stessa cosa tra molte virgolette, ma anche no, nel senso che chiaramente la parola manga significa fumetto in giapponese, ma questo non significa che le tecniche narrative e grafiche che vengono utilizzate siano le stesse di quelle che vengono utilizzate qui in Occidente, perché in Oriente hanno proprio un'altra mentalità e quest'altra mentalità li ha portati a sviluppare delle tecniche diverse da quelle che utilizziamo qui. uso un po' impropriamente il termine utilizziamo, perché io non mi sono mai trovata a utilizzare questo tipo di tecniche, però essendo occidentale, diciamo, uso il plurale. Però sì, diciamo che non è facile. Poi c'è magari il pubblico più giovane che è più facile da convincere, perché comunque non ha passato, che ne so, 20, 30 anni a credere che il manga fosse solo ed esclusivamente il fumetto che arriva dal Giappone. Mentre chiaramente magari i 30 anni, i 40 anni sono molto più difficili da convincere. Uno perché sono anche spesso più appassionati del fumetto italiano o comunque occidentale, americano, eccetera, eccetera. Spesso non si rendono neanche conto di non essere in target con molti manga che ci arrivano, che sono più adolescenziali, quindi magari tendono a credere che il manga sia una roba di... che sia uguale al fumetto, ma solo disegnato con gli occhioni e tutte queste cose qui che sono tutti pregiudizi e sono tutte cose false in realtà. Il manga semplicemente è una tecnica orientale. Noi la chiamiamo manga, ma in realtà potremmo chiamarla tecnica fumettistica orientale. La chiamiamo tecnica manga per sbrigarci sostanzialmente, perché è più facile arrivare subito a livello di comunicazione a far capire. Esatto, esattamente. Quindi è solo una parola che poi indica un concetto enorme. Sì, tu parli infatti di un concetto che tra l'altro praticamente ormai si è reso anche accademico, perché ad esempio io ho già intervistato in una delle puntate precedenti di Japan Wildlife, quindi invito a recuperarla, Caterina Rocchi che ha fondato la Luca Manga School, quindi dove si insegna letteralmente solo questa tecnica e quindi è proprio reso evidente il fatto che ci sia bisogno anche in realtà proprio di istruire magari qualcuno, perché poi, come dicevi tu, in effetti non sarebbe male che in futuro si costruisca un tipo di industria del manga italiano per cui magari ci si possa ad una certa permettere pure degli assistenti, anche perché secondo me non tutti per forza devono desiderare di fare delle storie, scrivere le proprie storie, magari gli basta in effetti semplicemente guadagnarsi la pagnotta aiutando qualcun altro e dell'Egittimo, e quindi però sarebbe in effetti necessario e secondo me per te sarebbe una bella cosa, credo. Sicuramente, almeno averli ben formati, perché comunque il mio editore spesso mi dice ma dai prendiamo qualcuno che ti aiuta, ti fa da assistente, ultimamente ci sta proprio pigiando tanto, e il problema è che io gli dico sì, ok, ma chi prendo? Tutti gli autori che reputerei all'altezza per fare questa cosa hanno le proprie serie e non si possono mettere a fare gli assistenti a me. Gli altri o non sono ancora al livello che serve a me, o magari non sanno utilizzare questo tipo di strumenti che utilizzo io, cioè secondo me bisognerebbe proprio creare una catena di montaggio che sappia utilizzare gli strumenti, che sappia cosa deve mettere dove, cioè proprio con un'indicazione veloce, senza dover stare a spiegare, no? Dare la forma mentis. Eh sì, esatto. Perché comunque sarebbe molto bello. Sì. Sarebbe bello, il problema è questo che... Sì? Dicevi? Dicevo, vuol dire anche fare da assistente imitare il tuo tratto praticamente, no? Quindi... Eh, per alcune cose sì. Cioè quella la difficoltà. In particolar modo per esempio per gli sfondi, perché gli assistenti spesso vengono messi a fare gli sfondi, e sembra una cavolata, ma in realtà fare degli sfondi che non vadano a cozzare con i personaggi, non è facile. Bisogna adattare il tipo di tratto in modo che non sia troppo pesante, perché lo sfondo deve essere sempre comunque un pelo più leggero rispetto ai personaggi che vanno in primo piano, se ci sono personaggi. Ma comunque in generale uno sfondo deve avere dei punti più neri, dei punti molto bianchi, dei punti cancellati, perché comunque in Giappone ci tengono tantissimo. A far prendere aria alla tavola. E invece qui in Occidente gli sfondi sono spesso molto pesanti, mentre magari quelli giapponesi hanno dei punti bianchi, non so se magari chi ci ascolta leggendo manga ci ha fatto caso, però spesso e volentieri gli sfondi vengono resi il più leggeri possibili, proprio per non andare ad affaticare anche l'occhio del lettore mentre legge, che è un'altra cosa che bisogna tener conto. E non tutti sanno fare questo tipo di sfondi. Quindi è una cosa che avrebbe proprio studiata nello specifico, per non parlare del fatto che sicuramente il mangaka fa fare tantissime modifiche all'assistente. E quindi serve anche una persona che sia risposta a rifare le cose anche dieci volte, senza sbuffare, senza rompere le scan. no, però tu sei troppo pignola, perché a me è capitato. Io sono una grandissima rompipalle. Ho avuto persone che mi hanno aiutato, che sono miei colleghi, però chiaramente la pazienza proprio dell'altra persona quando magari gli fai rifare una cosa, due, tre volte, poi a un certo punto comincia a bacillare. E quindi servirebbe proprio qualcuno formato anche su questa cosa qua. Io spesso e volentieri ho lasciato correre proprio per non essere troppo fastidiosa, però mi sarebbe piaciuto metterci molto più, cioè far rifare le cose, perché poi alla fine comunque le mani ce l'ho dovute mettere io. Quindi in ogni caso, se prendo un assistente, ma poi ci devo rimettere io le mani, chiaramente va a poi iniziare il ruolo dell'assistente. Ecco. Esatto. Sì, non è efficiente la cosa in effetti. Però questo già come quadro che ci hai dato anche solo questo esempio degli sfondi, fa capire quanto appunto il manga abbia determinate caratteristiche e appunto come queste vadano studiate appositamente. Perciò ulteriore dimostrazione del fatto che sia molto utile secondo me parlare di queste cose anche nelle nostre puntate. Però io adesso voglio parlare un po' più nel dettaglio del tuo manga appunto di Butterfly Effect perché ci abbiamo girato un po' intorno, ma vorrei che ci dicessi di più della trama, dei suoi personaggi. Esatto. Io dico solo che è il primo manga Yuri italiano, quindi Yuri per chi non conoscesse magari troppo bene i generi per incasellarlo un pochettino anche solo per target. Poi significa che può essere letto da chiunque volendo. Comunque si tratta di una storia che prevede anche l'amore tra ragazze in particolare, quindi è l'opposto magari del boys love. E appunto è anche questa già una specie di rivoluzione nella rivoluzione, no? Cioè già il manga italiano in più racconta questo tipo di rapporto che poi già se parliamo del 2014, diciamo, oddio, forse addirittura prima perché magari l'idea ce l'avevi già da prima. Sì, sì, l'idea ha iniziato a svilupparsi un paio di annetti prima. Ecco, quindi cioè è stato un po' precursore anche, penso, un po' dei tempi e quindi come lo hai elaborato a parte del fatto che hai detto già si tratta di un pochino di cose autobiografiche, ma cosa volevi raccontare di preciso con la storia di questi personaggi? Vai. Allora intanto parto con la trama parla di queste due ragazze Ania e Steph che sono opposte. Io amo tantissimo giocare con gli opposti e sono opposte sia caratterialmente che fisicamente quindi proprio a colpo d'occhio lo vedi subito ma hanno una cosa in comune una cosa che le ha poi effettivamente legate ovvero questo forte senso di solitudine che le accompagna fin dall'infanzia perché non hanno mai trovato qualcuno con cui essere se stesse senza purtroppo essere giudicate spesso dalle apparenze o in casi peggiori bullizzate. Ania la ragazza con mi metto di qua con i capelli rosa diciamo in realtà prugna però io non so mai creare il colore giusto dei capelli è una ragazza che è un po' sognatrice ma ha anche le idee ben chiare molto determinata e purtroppo col fatto che ha dei capelli molto strani non le interessa particolarmente essere alla moda poi adora i manga adora i fumetti e ai suoi tempi perché so che le cose sono cambiate ma ai suoi tempi questa cosa veniva vista male dai compagni quindi spesso bullizzata considerata nerd strana adesso in realtà è alla moda essere nerd quindi magari probabilmente qualche ragazzo non ci si potrà mai rivedere però effettivamente ma noi credo di sì io per prima e te ovviamente di sicuro non siamo le uniche appunto anche all'interno già del mio podcast quindi tanti in realtà che ci ascoltano credo che siano più o meno nostri coetanei comunque quindi capiscono mi sa e poi lei col fatto che appunto viene bullizzata tende a chiudersi un po' in se stessa e non non crede più tanto nell'amicizia l'altra ragazza arriva a farle cambiare idea tra molte virgolette un po' di prepotenza se proprio vogliamo dire perché Steph è una ragazza energica molto anticonformista e fa sempre un sacco di casino molto c'ha proprio la cacciara nel cuore lei è un po' got come stile si incontrano un po' per caso mi viene da dire si incontrano e si scontrano e all'inizio hanno un po' un diverbio diciamo senza far spoiler però da questo diverbio si renderanno conto di avere più in comune di quanto effettivamente credono poi ci sono anche delle cose che non posso dire per le quali Steph si incaponisce un po' e vuole per forza avere Ania come amica vuole per forza averla nella sua vita e quindi essendo la figlia della preside si fa ficcare in classe con lei e da qui inizia la loro storia diciamo finché a un certo punto una delle due non vi dico quale si rende conto di provare per l'altra un sentimento che forse va un po' oltre la semplice amicizia se ne rende conto perché prova una forte gelosia nei confronti di alcuni ragazzi che entreranno poi un attimo a gamba tesa nella loro vita e questo sentimento la manda in confusione si sente proprio strana non capisce perché non le è mai capitato di provare un sentimento d'amore per un'altra ragazza in più ha il terrore proprio di rovinare l'amicizia perché per una voce che trova una vera amica non vuole mandare tutto a monte per non parlare del fatto che comunque ci sono anche questi due ragazzi che fanno parte ormai della loro vita e anche questo è un ostacolo in più quindi tende molto a reprimere questo sentimento poi non vorrei dire altro l'unica cosa che posso dire in più è che oltre alla trama delle protagoniste si parlerà anche di molti altri personaggi e delle loro sottotrame tutte storie che hanno a che fare più o meno con le tante sfumature dell'amore amore non inteso soltanto come relazione sentimentale ma proprio come il sentimento che sta alla base delle relazioni ovvero quel sentimento che ti porta a volere il bene dell'altra persona e che spesso viene frainteso nel senso che quando ci si prende una cotta per qualcuno non è detto che sia per forza amore quindi anche questa sfumatura viene approfondita vengono approfondite tantissime tematiche anche ovviamente le varie tematiche LGBT però quello che vorrei sottolineare è che secondo me è molto importante Butterfly Effect non nasce benché sia il primo Yuri italiano non nasce come manifesto LGBT io all'inizio neanche lo avevo sottolineato nel 2014 quando è uscito tant'è che tante persone mi hanno detto scusami ma perché non lo dici che è uno Yuri cioè è palese che ste due insomma e io in realtà non volevo che prevalesse questo nel senso che sì è una storia d'amore tra due ragazze ma c'è di più cioè c'è c'è altro oltre all'amore l'amore diciamo tra di loro come ho detto prima è un pretesto è l'inizio della storia è ciò che dà il via al loro percorso di maturazione di accettazione di sé del prossimo e del fatto che è molto almeno per come la vedo io per quello che mi ha insegnato la vita è molto più importante amare prima se stessi prima di dedicarsi agli altri e le mie protagoniste non si amavano all'inizio inteso non amavano se stesse certo all'inizio piano piano il loro rapporto quindi l'avere l'una accanto all'altra le porta ad apprezzarsi di più e quindi a darsi un valore degli obiettivi nella vita e insomma tutte quelle cose che appunto ci fanno vivere a pieno la nostra vita infatti la protagonista principale a un certo punto lo dice anche io praticamente vivevo per inerzia prima di incontrare Steph mi sono resa conto che il mio tempo si è sbloccato quando ho conosciuto lei perché un personaggio le fa notare beh sei diversa da un paio d'anni fa e lei dice sì ho imparato a vivere no quindi è questo il messaggio di Butterfly Effect più che la storia d'amore più che le ship perché so che comunque tante persone vanno a ship però sicuramente io preferisco concentrarmi su altre tematiche senza ovviamente nulla togliere all'amore perché per me una storia senza un minimo accenno di amore non non ha senso che è un po' secondo me il difetto di tanti shonen almeno tanti della mia infanzia che praticamente l'amore era visto come un qualcosa così di avessi legato solo ed esclusivamente alla coppietta che doveva o giusto per gli episodi filler tipo esatto esatto quando di base secondo me l'amore per quanto gli uomini vogliano fare i duri e puri in realtà fa parte anche della loro vita perché tutti i miei amici parlano di ragazze costantemente tutti i giorni quindi ci possiamo nascondere dietro un dito quanto vogliamo ma secondo me una storia senza amore è una storia che gli manca un pezzo ecco sì e quindi quali sono in realtà se posso chiederti tipo dei manga appunto che leggevi eccetera che magari senti ti hanno particolarmente influenzata per la scrittura di questo o comunque in generale anche per la tua visione delle cose allora io ho iniziato a leggere manga che ero piccoli avevo tipo dieci anni e a quei tempi chiaramente cercavo cose in target con me quindi ero una patita di Tokyo Miu Miu di Doremi di Ufo Baby che il manga si chiama Da 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 però lo amavo tantissimo andava in onda su Rai 2 ai tempi la mattina era tipo il mio preferito in assoluto insieme alle Pretty Cure le Pretty Cure mi hanno segnato tantissimo maghette quindi sì praticamente Shojo Maggioco ero molto fissata col Maggioco per esempio perché Sailor Moon tutte le cose che si ho orientato praticamente tutto Maggioco Mermaid Melody il problema è che quando ho iniziato a fare le mie storielline eccetera eccetera mi sono resa conto che il Maggioco non sapevo proprio gestirlo cioè era molto più difficile del previsto quindi praticamente mi mettevo a disegnare questi capitoli prendendo ispirazione magari un po' da Pretty Cure un po' da Mermaid Melody eccetera eccetera ma poi non sapevo mandarli avanti perché gestire insomma dei poteri cattivi e tutte queste cose qua sembrava semplice ma invece non lo era e quindi mi fermavo e ricominciavo e ricominciavo e ricominciavo finché a un certo punto sempre con una storia pseudo Maggioco mi rendo conto che volevo parlare del sentimentale e quindi ero già più grandicella avevo circa 14 anni e quindi parto a fare questo Love di Mew che poi è il titolo del manga che stavo facendo da cui poi è nato il mio nickname questo nel 2008 circa 2007 2008 poi è rimasto che è un periodo io facevo le medie a quei tempi quindi io in realtà lì iniziai a scrivere le fan fiction questa cosa l'ho già raccontata un po' beh sì perché tu 94 io 93 quindi siamo più o meno credo che sia proprio quella fase esatto dove volevamo si vede proprio raccontare storie ma anche quello che probabilmente stavamo appunto già iniziando a provare noi o a desiderare no di provare e quindi penso che sia naturale però è molto bello molto dolce in realtà che ti stia anche accompagnando adesso così col nickname cioè alla fine è una cosa che ti è rimasta sì è una cosa che mi è rimasta perché appunto avevo questo forum dedicato proprio al mio fumettino lovely mew brutto da morire mamma mia se ci ripensi non lo cercate per favore perché è bruttissimo comunque mi ci sono affezionata perché appunto avevo il nickname su forum free e forum community che era appunto lovely mew e tutti quanti avevano iniziato a chiamarmi mew quindi per tutti ero mew non sono più riuscita a cambiare nickname perché ormai c'ero troppo affezionata aveva proprio un significato importante per me perché erano le prime persone che mi riconoscevano come tra virgolette autrice cioè anche se ero piccola comunque avevo 14-15 anni e quindi si legittimavano sì sì no cioè loro erano veramente tanto tanto attivi e anzi il forum esiste grazie a queste persone perché prima del forum io ero su un altro forum più generico di mermaid melody e avevo iniziato a mettere qualche paginetta di questa storiellina il pubblico è cresciuto talmente tanto che un solo topic con il mio fumettino non bastava più perché loro volevano proprio le sezioni volevano parlare di tutte le sfumature dei vari mondi di tutte le cose che riguardavano questa storia che se ci ripenso adesso è bruttarella una donna santa però è un'andata non so bene perché probabilmente perché comunque alla fin fine era un po' emozionante cioè io ogni tanto me lo rispoglio per nostalgia quando magari metto a posto e mi capita sotto mano e effettivamente c'erano delle cose carine tante cose che veramente si possono guardare però capisco anche che ai tempi non c'era neanche tanto termine di Paragone quindi mi ha detto bene diciamo da questo punto di vista vabbè adesso c'è anche un altro senso critico da autrice diciamo adesso non riesco a guardare neanche il volume 1 di Butterfly è il motivo per cui lo devo rifare vabbè un po' ci sta ci sta perché appunto ci si evolve secondo me capita un po' a tutti i fumettisti solo che non lo dicono troppo apertamente perché vabbè alla fine si è talmente presi dopo con le nuove opere il resto che non ci stai troppo a pensare però se capita l'occasione di doverlo rifare per qualche ragione come te allora secondo me capiterebbe un po' a tutti quindi ci sta allora se un autore è molto affezionato alla propria storia te la rifà anche 200 volte se magari però ne trova un'altra a cui si affeziona di più magari riesce con un cuore più leggero a lasciarsi indietro l'altra personalmente io ho comunque un'altra storia a cui sono molto legata e che non vedo l'ora di far uscire però col fatto che vorremmo mandare Butterfly Effect all'estero sto cogliendo l'occasione per rifarlo insomma come si deve con tutti i crismi del caso e soprattutto utilizzando delle tecniche di narrazione che ho studiato più di recente quindi sono proprio tecniche orientali che mi sono state tramandate da persone che hanno lavorato con editor giapponesi o anche con autori giapponesi anche del calibro di Tsukasa Ojo di Occhi di Gatto l'autore di Piani di Guerriere insomma non persone non autoretti così insomma no esatto gente importante e quindi sono tecniche che io ho fatto mie tipo spugna le ho assorbite tantissimo e le voglio riutilizzare per la Perfect Edition di Butterfly Effect che poi dovrà uscire a novembre grande quindi in realtà sappiamo già questa cosa non è neanche troppo uno spoiler penso però insomma è una notizia che secondo me è mai la pena sapere ormai è sbrenato c'è una data visto che a fine ottobre c'è Luca Comics presumo potrebbe esserci un'altra prima lì Luca Comics sarà il suo trampolino d'uscita e poi ovviamente lo troverete ovunque non solo alle fiere del fumetto anche in fumetteria in particolar modo sicuramente negli star shop e poi chiaramente ce l'avremo online su Amazon ma anche sul nostro sito quello ufficiale di Manga Senpai la mia casa editrice sì e la cosa carina secondo me è che penso possa diciamo stuzzicare la curiosità dei miei lettori cioè delle persone che già mi seguono è che il primo volume della Perfect Edition in realtà è un inedito nel senso che tratta di cose che non sono state ancora fatte vedere in Butterfly Effect o meglio è una sorta di prequel lo metto fra virgolette perché effettivamente tratta di avvenimenti che sono antecedenti al primo volume regolare quello che hai mostrato anche tu prima che è questo qui esatto gli avvenimenti che tratterò nella Perfect avvengono un pochino prima anche se nel volume 1 c'è un capitolo in cui si vede diciamo l'incorpro tra Ania e Steph in questo volume verrà approfondito molto di più si vedrà come è la vita come era la vita di Ania e Steph prima di incontrarsi come cambia nel momento in cui si incontrano e anche un po' dopo come riescono ad assestarsi perché comunque il loro incontro scombussola parecchio la vita di entrambe soprattutto di Steph quindi verrà approfondità anche questa cosa qui ho già scritto 172 pagine nuove di volumetto e quindi in totale saranno 180 pagine anche compresi gli extra e insomma le altre cose le prime 8 pagine saranno a colori quindi vorrò spazzere un po' per farle a colori formato tankoban quindi per chi non lo sapesse è il classico formato dei manga lo piccolino esatto quello lì esattamente piccolino un po' cicciottello quindi 180 pagine di puro gusto con anche quelle a colori all'inizio esatto sì sarà una bella edizione comunque ci vogliamo proprio ci vogliamo sprecare sì 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 proprio spendere espandere per fare una bellissima edizione anche per celebrare comunque i dieci anni di Butterfly Effect perché ormai esatto è pazzesco secondo me per un autore comunque dopo è pazzesco rendersi conto di queste cose perché cioè vedi appunto la crescita vedi appunto anche il pubblico visto che tu ti ci sei messa in prima persona dopo a promuoverlo appunto sui social quindi vedi il pubblico che aumenta e anche un po' cambia perché ovviamente tipo io che ci sono diciamo cresciuta insieme poi ovviamente ero già nel 2014 14 quanti anni avevo anche io 20 sì e pensa che ci sono diciamo ci sono persone che mi dicono quando ho iniziato a leggerlo andavo alle medie e adesso vado tipo all'università io tipo Dio però è bello è bellissimo perché per me è una cosa come cioè come mi è successo con altri manga magari o libri facciamo Harry Potter per farne uno proprio clamoroso e eclatante come esempio però dove cioè leggevo le avventure di questi personaggi dopodiché vista la lunghezza magari della serie passavano infatti degli anni e io però continuavo esatto a rivedermici perché ormai ero loro coetanea ed è questo il bello perché Harry Potter è stato un caso proprio clamoroso perché effettivamente avevamo la stessa età di Harry più o meno stavamo lì quindi quando è uscito eravamo proprio noi catapultati ad Hogwarts e poi ogni anno ne usciva un libro nuovo comunque un film nuovo e quindi crescevano insieme a noi è stato proprio un caso però mi è successo anche con i manga cioè nel senso è un'esperienza che per me si è ripetuta più volte magari appunto non in maniera così sistematica però adesso anche solo nel rileggerle tutto mi rendo conto ma cavoli io mi trovavo in una situazione simile e quindi chi lo sa magari senza rendermene conto sono stata influenzata da quello che leggevo quindi questo è per dire una cosa che ho cercato di ribadire anche in altri contesti che il manga e il fumetto in generale sempre penso che tu sia d'accordo ovviamente non sono letture di serie B e possono insegnare trasmettere qualcosa rimanerti proprio dentro e renderti il manga è proprio è proprio questo il manga è emozione se fai una storia senza emozioni paradossalmente non potrebbe essere neanche catalogata come manga perché tra le varie tecniche che io ho studiato c'è proprio quella di trainare le emozioni del lettore quindi il fatto che il lettore si deve assolutamente immedesimare e provare le stesse sensazioni che sta provando il protagonista o comunque il protagonista di quella scena magari non della storia ma di quella scena nello specifico cioè tutto un lavoro di soggettiva che bisogna fare per riuscire a emozionare e ci sono proprio delle tecniche specifiche legate a questa cosa qui quindi ti dirò se un manga non ha emozioni gli manca praticamente uno dei punti cardini dell'essere un manga i giapponesi sono veramente molto come si dice non transigono su questa cosa delle emozioni perché poi tra l'altro il loro modo di comunicare è molto emotivo e hanno proprio bisogno di vedere le emozioni dei personaggi per riuscire a comprendere la situazione anche mi ha raccontato per esempio un mio carissimo collega Salvatore che saluto che quando loro magari gli facevano vedere ai giapponesi delle tavole occidentali dicevano sì ma qui che sta succedendo cosa sta provando il protagonista non capisco perché effettivamente noi coi primi piani non ci facciamo tantissimo almeno più che noi intendo noi come fumetto occidentale quindi un Tex un Dilan Dog eccetera l'espressività anche dei personaggi non è così tanto accentuata come lo è nei manga che appunto hanno dei tratti un po' più accentuati come magari gli occhi la bocca eccetera quindi per un giapponese paradossalmente è molto difficile capire loro sono molto chiusi non esprimono molto le loro emozioni perché tendono ad essere molto riservati però dall'altra parte c'è questa questa cosa al contrario diciamo che hanno bisogno di emozioni esagerate per riuscire a comprenderle e quindi magari un'opera per esempio gli risulterebbe molto difficile da capire per non parlare del fatto che gli risulta molto veloce perché hanno anche quest'altra questione delle tempistiche del fatto che le loro storie si suddividono in quattro tempi narrativi e non tre come da noi è bellissimo perché quando spiego queste cose la gente dice ah ma quindi non fanno le stesse cose che facciamo qui ma infatti ma perché sono così lunghi manga eh sono così lunghi perché hanno dei tempi narrativi differenti si concentrano su cose differenti rispetto a noi per quello a me piace sottolineare che sono due cose diverse non c'è una cosa migliore dell'altra semplicemente sono due modi diversi di comunicare il fumetto occidentale e il fumetto orientale e poi ognuno può scegliere quale utilizzare io chiaramente ho scelto quello orientale perché comunque sono sempre stata abituata a questo tipo di letture e di visioni anche soprattutto di visioni in tenera età e quindi per me mi viene proprio naturale però ci sono tante persone che invece no sì ma infatti è evidente anche solo nel modo in cui lo spieghi e questo fa anche capire che se non sbaglio tu hai anche proprio insegnato cioè oltre che imparare come hai detto insegnato in prima persona credo proprio anche alla luce tra l'altro esatto salutiamo Caterina esatto e però so anche che hai fatto questo credo forse adesso state preparando la seconda edizione diciamo di questo corso con le tue colleghe Giade Elisabetta I Pupazzi Academy esatto che è molto carino come l'idea che lo chiamate così i pupazzi e sì è nata dal fatto che chi non conosce i manga i fumetti eccetera spesso li chiama i pupazzi ah ma quindi te fai i pupazzi e quindi è un po' un nome ironico per chiamare il corso però è bello che abbiate messo insieme esatto che avete messo insieme le forze e tra l'altro appunto un team femminile che però insegna appunto questa tecnica specifica e tutte queste cose che già ci hai detto e che fanno intuire l'importanza spiegheremo due modi diversi anche perché comunque non tutti i ragazzi magari si vogliono interessare al manga nello specifico quindi spiegheremo la differenza tra lo scrivere una storia con tecniche occidentali soprattutto di narrazione e lo scriverla con tecniche orientali quindi su cosa ci si deve concentrare piuttosto che altro e spiegheremo cose comunque abbastanza tecniche ma anche tante altre cose che sono un po' più non pur parler perché non non è il termine giusto però che non riguardano strettamente il fumetto ma per esempio la promozione sui social che è una cosa che adesso qualsiasi autore o aspirante tale deve assolutamente fare perché chiaramente quello che dicevo all'inizio della nostra chiacchierata essendo noi pagati a royalties dobbiamo puntare a vendere il più possibile e se non ci facciamo conoscere dal pubblico chiaramente si venderà molto meno è molto importante quindi sponsorizzare noi stessi ma principalmente le nostre opere nel modo corretto quindi ci sono proprio dei modi per fare la giusta comunicazione spiegare determinate cose insomma al pubblico e quindi spiegheremo anche questo nel corso oltre chiaramente alla parte di sceneggiatura e un pochino di schemi del viso del corpo insomma per chi invece vuole esatto vuole imparare un po' la parte grafica il disegno le proporzioni e tutte queste cose qui e character design anche insomma saranno 3-4 giorni belli intensi belli intensi però spero che diano quell'infarinata perché è chiaramente un corso molto breve ma spero che diano quell'infarinata generale che poi porterà gli alunni a fare magari delle accademie o comunque a decidere se vogliono proseguire su questa strada e quindi fare dei corsi un po' più impegnati quindi si parla di appunto accademie annuali o eventualmente mensili insomma ci sono tantissime opportunità è un corso diciamo introduttivo che però direi già molto completo perché comunque ti dà decisamente degli strumenti da poter mettere già in uso subito e allo stesso tempo però almeno uno anche se magari non potesse permettersi di andare appunto ad un academy dritto filato almeno può sì almeno all'infarinata generale può lavorarci su cioè noi sicuramente diamo delle nozioni basic chiaramente con una con un'accademia o con dei corsi più intensi si riesce anche a correggere il tiro ad avere insegnanti che ti seguono passo passo che è una cosa fondamentale effettivamente però il nostro corso comunque dà già una buona infarinata e di tutti di tutti quelli che sono gli elementi che servono per fare fumetto barra manga e quindi speriamo insomma di accendere la passione nelle giovanimenti già se vengono se vengono penso che sia sia già lì poi voi l'alimenterete di sicuro e volevo chiederti visto che infatti in questo corso insegnate anche cioè tutti i vari aspetti hai citato oltre che il disegno la sceneggiatura per te come autrice unica che quindi devi occuparti di tutte le cose perché conosco anche altri autori che a livello personale anche che proprio magari in verità si occupano solo della sceneggiatura e quindi c'è un'altra persona che fa i disegni insomma tra l'altro per far capire che quindi l'industria dei manga e del fumetto in generale comunque richiede tantissime figure cioè nel senso che veramente si potrebbe effettivamente farla evolvere meglio di così insomma in Italia comunque quindi per te per cioè che cos'è la cosa più difficile da fare visto che devi farle tutte in qualche modo allora per me sicuramente scrivere scrivere perché perché quando scrivo una sceneggiatura io mi appunto spesso e volentieri anche proprio le vignette le inquadrature che devo utilizzare in alcuni punti momenti molto salienti e quindi questa cosa mi richiede tanto tanto tantissimo tempo e quindi è una cosa veramente complessa anche perché quando scrivo io già decido il numero di pagine quindi se magari sforo perché ne ho usate troppe devo capire che cosa andare a tagliare se tagliare oppure magari ne utilizzate poche quindi devo capire cosa posso tra molte virgolette sbrodolare o comunque a cosa devo dare più risalto che magari non glielo avevo dato poi mi trovo con qualche pagina in più e allora posso approfondire una tematica o un sentimento di un personaggio perché fa una determinata azione quindi insomma è veramente complicato per me scrivere poi in realtà è una cosa molto personale perché ci sono tanti altri autori che conosco che fanno sia storia che disegni vedi per esempio Elisabetta Cifone che lei è tutto il contrario mio ma proprio il sole e la luna siamo lei per esempio adora scrivere scriverebbe per sempre però mettila a disegnare come se si sedesse sugli aghi proprio mettila col sedere sulla sedia a disegnare tortura cinese proprio e quindi io tutto al contrario perché io nel momento in cui inizio a disegnare è tutta in discesa ho fatto la parte più difficile è fatta oddio chiaramente c'è la parte del mezzo ovvero tra la scrittura e il disegno alle tavole effettive c'è il tedio assoluto ovvero il name note chi ha letto Bakuman magari sa che cos'è il name note praticamente è una sorta di storyboard mettiamola così sì in cui si abbozzano le tavole sì esatto è la bozza molto molto abbozzata delle tavole con il balloon in primo luogo la loro posizione ma anche delle bozze di inquadrature per riuscire a capire un attimo come gira lo sguardo il flow del lettore sulla tavole insomma tutte queste cose qui e quello è veramente complicato perché a volte magari io scrivo una cosa ma non è detto che mi stia nelle pagine che sto andando a fare come avevi immaginato esatto io in due pagine mi sono scritta determinate cose ma non mi bastano due pagine quindi devo riandare a modificare tutto quindi è un casino un casino però sì diciamo che la parte di scrittura è quella che odio di più è sicuramente quella più creativa mi fa fumare tantissimo il cervello e forse da questo punto di vista è anche sicuramente interessante è una sfida continua però mamma mia quando inizio a fare la bella delle tavole quanto è più liberatorio sì posso andare anche perché poi esatto ma poi tu fai anche le live se non sbaglio non solo di illustrazioni ma anche credo nel momento in cui tu magari stai ultimando una tavola no quindi l'inchiostrazione esatto quindi se volete i retini con i retini ancora non ho non ho avuto il piacere perché spesso quando faccio i retini sono talmente tanto in consegna nera e stretta che non ho il tempo purtroppo di mettermi lì con calma a fare una live però con l'inchiostrazione ne ho fatte parecchie e quelle parti lì sono effettivamente le più semplici perché nel momento in cui hai già la matita della tavola io poi vado ad inchiostrare ci metto veramente molto poco poi posso riuscire a tenersi una live e leggere i commenti perché non mi impegna tanto a livello di cervello inchiostrare forse un pochino di più disegnare le matite e quindi spesso e volentieri me la faccio prima però inchiostrare o mettere i retini cioè proprio posso andare serenamente a cervello spento sono la parte più facile in assoluto per me però non potrei per esempio mai fare lo storyboard nei not diciamo no non credo proprio no è proprio impossibile perché dovrei stare appresso ai commenti nel frattempo ragionare su quale vignetta è meglio utilizzare qual è quella più grande qual è il sentimento che prevale la soggettiva il flow no non si può fare in live decisamente però mi è capitato di correggerle cioè tipo delle mie vecchissime tavole mi è capitato di correggerle quello sì si può si può fare perché comunque senza pretese alcune andavo lì ah vedete questo balloon per esempio qui sta messo male perché sempre sulle mie stesse tavole però vabbè mi criticavo la me di tanti anni prima perché qui il flow non gira bene quindi dovremmo spostarlo di qua oppure dovremmo staccare il testo perché il testo è troppo lungo oppure qui serve una vignetta dei suoi sentimenti cosa sta provando quindi ce ne aggiungiamo una ne togliamo un'altra tutte queste cose qui faccio a volte in live sono abbastanza divertenti bellissimo è super interessante perché adesso che lo sapete e vi siete chiesti come potrebbe essere guardare un mangaka mentre disegna cioè potete farlo ormai è una cosa che è accessibile a tutti quindi vi invito ovviamente tanto trovate tutti i collegamenti ai social di Giulia in descrizione quindi vi invito ad andare a vedere una sua live che penso comunque tu le stia già facendo perché alla fine stai lavorando sul canale Viola tutti i martedì e i giovedì dalle dalle 6 del pomeriggio alle 8 di sera a volte li faccio anche la domenica sempre allo stesso orario però dipende dalle fiere se sono in fiera ovviamente non faccio la live e poi va bene tra l'altro ora che parliamo ora che parliamo siamo cioè tu sei reduce dal Romics quando uscirà questa puntata starai praticamente tornando al ridosso no al ridosso del Comic Con sì Comic Con esatto quindi insomma adesso è proprio il periodo delle fiere che per fortuna tra l'altro insomma adesso si sono riavviate rispetto anche forse già al 2021 o nel 2022 credo che sia migliorato vediamo il 2023 ancora ormai siamo tornati alla normalità però il periodo del covid è stato tremendo per noi fumettisti perché immagina che il 70% dei guadagni dei fumettisti viene dalle vendite in fiera quindi immagina non avere la possibilità di andare in fiera perché chiaramente siamo in quarantena pandemia eccetera eccetera sì cioè ci stavo male per voi veramente è stato tremendo e fortunatamente io sono una che ha il problem solving nel cuore e quindi ho boostato di brutto su tiktok e quindi infatti tipo in sei mesi mi sono tirata su un account da quasi centomila follower così però questa cosa mi ha aiutato un botto perché non solo abbiamo fatto tantissime vendite nello store online o su amazon eccetera ma poi adesso alle fiere del fumetto c'è tantissima gente infatti conosco da tiktok ah lo conosco da tiktok indicando magari butterfly pet e quindi questa cosa comunque riverbero ancora dopo tre anni nonostante tiktok ormai il mio è quasi mezzo morto non mi manda più tantissimo video virali come una volta però c'è ancora gente che se lo ricorda la mia speranza è di portare tutti su instagram perché almeno lì come dicevamo ha senso ha senso perché c'è proprio a livello di marketing diciamo ogni tanto butto lì queste cose perché ci lavoro e sì considerando che tiktok ti è servito in una situazione come quella per farti conoscere lo step successivo è appunto portare quelli interessati da un'altra parte dire diciamo la conoscenza del fumetto tuo di te anche e diciamo non perderti nel marasma che invece appunto può essere tiktok che a forza di scorrere ti cioè rischi non di essere dimenticato però di di essere in mezzo a così tanta gente che già sappiamo la tensione è bassa e quindi a maggior ragione passerà oltre ma non perché non perché sia brutto è anche molto è anche molto giovane e quindi c'ha la mente proprio sempre piena di stimoli cioè i ragazzi hanno tantissimi stimoli da tutte le parti quindi è facile che si dimentichino di chi sei se non trovi un modo per tenerti il pubblico cioè magari mi è capitato anche in fiera oddio io tre anni fa questo lo leggevo avevo preso il primo volume e magari si prendono quelli dopo perché mi beccano a caso in fiera chiaramente oppure magari purtroppo capita che cambiano gli interessi quindi ah che tempi quando ancora mi piacevano i manga e o io sono che ho io succede e capita però sì però diamogli un altro stimolo così perché non bastano all'inizio più o meno hai citato il fatto che comunque non vedi l'ora di passare ovviamente anche alla tua prossima opera non so se vuoi parlarne un po' perché in realtà vabbè hai già detto nomi e cognomi diciamo dei personaggi e il titolo e tutto quindi un pochino la conosciamo però so che ci stai lavorando da tanto con la tua amica Stefania che tra l'altro ha ispirato la Steph di Butterfly Effect quindi per questo voglio voglio collegare le due cose quindi in realtà comunque parlaci anche di questo perché vorrei che proprio quando vengono a novembre a prenderti la Perfect oltre ad innamorarsi di quello dopo devono aspettare assolutamente prendere anche questo allora Corset Moon è il titolo della mia altra storia della vita perché in realtà la cosa divertente è che Corset Moon è nato prima di Butterfly Effect ma è stato fermato in corso d'opera per appunto permettermi di pubblicare Butterfly Effect e Corset Moon nasce dalla mente malata mia e della mia migliore amica Claudia Stefania Grillea e noi cioè l'abbiamo iniziato così come un gioco come una ruolata GDR e poi in realtà è diventata una cosa grossa adesso adesso possiamo effettivamente parlare di una trama vera e sensata dopo dodici anni di rielaborazioni costanti è una specie di shoujo ma un po' diciamo è sicuramente un urban fantasy quindi parla di cose che riguardano la mitologia greca ma ambientato comunque ai giorni nostri quindi diciamo pre-pandemia potremmo dire perché volevamo evitarci il problema della pandemia quindi abbiamo ambientato più o meno nel 2018 19 una cosa del genere e qui comunque tempi abbastanza moderni dai la storia è difficile non fare spoiler sostanzialmente infatti non li hai mai fatti cioè non hai mai parlato dettagliatamente della trama perché penso sia un problema è un po' un problema perché effettivamente la trama di per sé è già uno spoiler però vabbè si parla di divinità greca di reincarnazioni di maledizioni una in particolare una maledizione che diciamo porta i personaggi principali a fare una corsa contro il tempo e contro la morte sostanzialmente praticamente il protagonista principale Endimione e la coprotagonista principale Selene nascono ovviamente dal mito di Selene Endimione quello greco che praticamente conosciamo solo io e l'autrice di Sailor Moon perché tutte le persone mi dicono ah ma l'hai preso da Sailor Moon no è che è lo stesso no cioè esatto però a quanto pare siamo le pioniere di questa storia di questo mito e praticamente loro sono due personaggi anche qui opposti lui è uno scrittore depresso cronico che ha pochissima fiducia in se stesso e che è ossessionato da una ragazza che gli compare in sogno ma fin dalla tenera infanzia tanto che a un certo punto lui inizia a credere che questa ragazza esista veramente ma tutti gli danno un po' del dello speciale esatto gli danno un po' del matto e quindi lui deve convivere questi 20 25 anni della sua vita con questa cosa oltretutto ogni mese con la luna piena lui ha proprio delle delle visioni lucide di questa ragazza quindi per quello poi a un certo punto pensa di essere ammattito e tende a stare chiuso in casa per evitare problemi in generale con gli altri e quindi per questo anche fa lo scrittore o comunque ghostwriter eccetera l'altra protagonista invece Selene è una ragazza albina che deve combattere costantemente con il fatto di essere albina quindi di avere comunque delle problematiche fisiche che spesso portano gli altri a trattarla come se fosse molto fragile o nel peggiore dei casi magari una buona nulla quindi soffre molto questa cosa fa l'università e vuole assolutamente dimostrare di essere una persona che se la sa cavare da sola quindi vuole trovarsi un lavoro insomma vuole essere indipendente il più possibile anche se la sua famiglia in particolar modo tende a reprimerla un po' un giorno succederà che Limione e Serene si incontreranno per fattori X che non posso dire perché ovviamente sono spoiler ma c'entrano con altri personaggi diciamo altri personaggi molto importanti comunque ai fini della trama e nel momento in cui si incontrano iniziano a succedere cose molto strane e cose abbastanza anche pericolose se vogliamo da un certo punto di vista intorno a loro succedono dei fenomeni mi viene da dire paranormali anche se non è proprio il termine esatto però comunque dei fenomeni abbastanza strani e si intensificano man mano che il tempo va avanti e da lì che ti dicevo a un certo punto capiranno che hanno poco tempo a disposizione per riuscire a trovare il capo del mistero e capire che cosa gli sta succedendo quindi diciamo che questa è la trama base ho detto tantissimo tantissimo devo dire ho detto tantissimo ho spoilerato proprio un botto sono contenta mi sento in realtà c'è molto altro devo dire c'è molto molto altro ci sono degli altri personaggi importantissimi ma di loro non voglio dire niente ho parlato solo dei due protagonisti però ce ne sono altri anche molto rilevanti veramente molto però preferisco tenermeli quelli perché comunque se no sto dicendo tutto e la storia comunque verrà penso pubblicata tra due tre anni tempo di finire la perfect edition di butterfly effect una volta finita quella io parto a bomba con le tavole di course at moon sarà entusiasmante nel senso che io ho già provato curiosità prima nel vedere le presentazioni dei protagonisti quando li hai mostrati ogni tanto in realtà compaiono infatti già in butterfly effect così fanno una specie di cameo è un cameo e quindi già da lì uno magari sentendotene parlare dopo in questi anni così avrà fatto il due più due magari e io non vedo l'ora però adesso di leggerlo poi dici uno urban fantasy che direi comunque è un genere ora molto apprezzato appunto anche dal pubblico più giovane quindi secondo me se ti conosceranno già da butterfly effect anche adesso con la perfect dopo non aspetteranno altro quindi ci tenevo a parlarne sicuramente è una storia meno femminile ecco è una storia che va bene ci sta in realtà anche butterfly effect solo che la gente o soprattutto i ragazzi si fermano magari al fatto che ci sono due protagoniste femminili e quindi dicono ah però forse non fa per me poi un sacco di ragazzi adesso lo stanno leggendo e lo stanno apprezzando tantissimo nell'ultimo periodo il mio pubblico maschile è cresciuto a dismisura tant'è che alla fiera di Padova ho venduto quasi solo a dei ragazzi ti dico ero sconcertata faccio scusate ma dov'è il mio pubblico femminile solito questa cosa è nata perché abbiamo fatto la variant del numero uno e i ragazzi sono molto appassionati di variant quindi hanno saputo che c'era questa variant di questa opera e l'hanno presa e niente sì da quel momento pubblico maschile a go go eh vabbè non lo so provateci ancora wink wink cioè fatelo magari per che ne so magari anche il decimo no il dodicesimo perché sono dodici volumetti questi quelli quelli attuali magari lo fate anche per l'ultimo giusto perché è l'ultimo poi so che avete fatto i cofanetti in realtà quindi anche quelli ma poi sì 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 ci sono ci sono i cofanetti sono due due cofanetti diversi cioè quello argentato che è diviso in due quindi sono due cofanetti argentati ehm che hanno ognuno ha sei volumi al suo interno e poi ci sono quattro cofanetti perlati invece con effetto perla dell'involucro che hanno tre volumi al loro interno e per quelli perlati c'è un leggero sconto quelli argentati invece sono proprio da collezione per i collezionisti in realtà costano un pelino di più dipende tutto da insomma dalle esigenze dalle degli interessi poi del pubblico quello che che volevo dire che non ho detto prima è che la serie regular questa qui insomma che che abbiamo fatto vedere fino adesso diciamo in formato sottiletta ehm andrà a sparire quindi se volete recuperare gli ultimi volumi vi consiglio di farlo nell'anno corrente perché poi nel momento in cui verrà messa fuori la perfect si andrà fino a esaurimento scorte potreste rimanere se state se state a metà con i volumi vi conviene finirli il prima possibile finire la collezione il prima possibile perché poi questa questa serie non verrà più prodotta o meglio questa edizione qui non verrà più prodotta né ristampata quindi diventerà anche una specie di cimeglio per collezionisti secondo me perché comunque diventerà introvabile quindi io posso vantare che almeno qualche volume ce l'ho firmato purtroppo non tutti però tipo già i primi tre di sicuro perché ti ho fatto fare praticamente subito Ania e Steph sui primi due poi c'è Erika come altro personaggio vedo qua e poi vediamo un po' perché poi cambiavano un pochino le pagine le prime pagine magari tu lo facevi lì poi hai dovuto farlo magari sull'ultima qua c'è di nuovo Steph quindi sì ho un po' di ho un po' di volumetti firmati in realtà quindi a sto punto direi che diventeranno belli preziosi ma io non vedo niente di questo tipo come fiere se ci becchiamo in una prossima fiera te li firmo tutti quanti col disegno magari ogni tanto me ne volo un paio è che giustamente c'hai la tua fila perché anche altre volte cioè io l'ho vista in varie fiere in verità e appunto ho sempre visto che hai un buon seguito cioè c'è sempre qualcuno davanti quindi è veramente una buona cosa e vabbè a me interessava leggere la storia comunque quindi bastava che compravo ed ero già felice e adesso in realtà mi viene voglia di comprare pure la Perfect che un pochino non ci stavo pensando troppo perché vabbè la storia comunque ce l'ho la fai già certo la Perfect comunque avrà tante cose nuove se mi dai cose nuove esatto quindi a questo punto non solo tra l'altro nel primo volume non solo perché il primo volume è completamente nuovo ma anche comunque dal secondo volume in poi anche se la storia si riallinea con la vecchia edizione comunque sarà raccontata in modo diverso e non solo inserirò delle cose in più che riguardano alcuni personaggi per approfondire meglio il loro background già dall'inizio mentre magari nella storia lo approfondisco un pochino alla leggera dopo nei volumi successivi adesso con la Perfect mi piacerebbe farlo già da subito inserire delle cose che ovviamente non sono state inserite ma se ne è solo magari parlato tipo magari i personaggi facevano un dialogo su una determinata famiglia e quindi che ne so Alessio che parla della sua famiglia e del fatto che c'ha la sorella che va sempre in discoteca e lui non sta bene perché è piccola però non si è visto questo suo lato di fratello maggiore molto protettivo mi piacerebbe comunque incontrare delle lore familiari di alcuni personaggi anche per farli capire meglio nei loro anche poi dopo nelle loro reazioni e nei loro rapporti esatto della linea principale della storia in ogni volume avrete una scena o più di una in cui vado ad approfondire determinate cose io comunque mi sono fatta una lista rileggendo tutti i volumi dal primo al dodicesimo ho una lista in cui mi sono scritta ecco qui bisogna inserire questo qui bisogna inserire quell'altro e ho tante modifiche da fare in ogni singolo volume quindi comunque la perfect sarà sempre una scoperta non avrete le stesse pagine sia perché comunque i primi volumi li ridisegno proprio da zero poi quelli successivi magari no però in quelli successivi comunque aggiungerò qualche paginetta in più per approfondire determinate cose quindi sarà sempre un'edizione nuova sempre con le prime otto pagine a colori quindi comunque verrà un'edizione perfect almeno per me per quello che io intendo come perfezione tra molte virgolette è una mia personale idea della perfezione e io però voglio chiederti allora così anche per concludere quindi da questa esperienza quindi dodici volumi pubblicati in una decina d'anni e adesso come dire con questa revisione cioè ovviamente la revisione sarebbe stato carino non doverla fare immagino nel senso che ovviamente uno vuole appunto presentare la cosa più la migliore in assoluto ecco quindi tu come ti senti di consigliare in base a tutta questa tua esperienza perché ora penso che la applicherai per dire Acousted Moon agli aspiranti fumettisti che quindi stanno magari in questo momento scrivendo la loro storia quindi vorrebbero un giorno pubblicarla e come devono presentarla come devono lavorarci cosa cosa hai da dirgli allora sicuramente la prima cosa che un aspirante fumettista deve fare è pensare ad un messaggio ben specifico che vuole mandare ai suoi lettori o comunque più di un messaggio ma comunque dei concetti delle emozioni che vuole trasmettere agli altri perché senza di quelle come abbiamo detto anche prima non si fa un manga e poi studiare studiare è la seconda cosa ma proprio studiare bene io personalmente ho studiato sì ma non tanto quanto avrei dovuto ed è il motivo per cui adesso sto rifacendo la perfect io se avessi avuto ai miei tempi delle accademie per esempio di manga o dei molti più corsi sicuramente li avrei fatti purtroppo per me quando ero comunque ragazzina 14 anni non esistevano queste cose proprio non c'erano invece tanti ragazzi adesso sono fortunati perché ce l'hanno ce l'hanno ma proprio perché ce l'hanno forse a volte le prendono un po' sotto gamba e invece no è una cosa seria soprattutto se volete farlo come lavoro perché magari a volte capita anche che i ragazzi ci vadano solo perché per hobby perché gli piace disegnare eccetera eccetera e chiaramente non pretendo che a 14 anni uno abbia le idee chiare e dica ah sì adesso diventerò un fumettista però se iniziate a studiare prima possibile sicuramente sarete già avvantaggiati rispetto a me quindi è una cosa che consiglio veramente calorosamente bisogna investire soldi e tempo nello studio nella formazione e in particolar modo se volete fare manga di tecniche orientali perché mi è capitato anche di vedere comunque ragazzi che volendo fare manga magari sbattevano contro scuole di fumetto italiano che andavano proprio a cercare di snaturare questa loro passione di a cercare di di disilluderli per quanto riguarda il manga e a cercare di insegnare solo ed esclusivamente la tecnica occidentale perché è ritenuta migliore e questa cosa qui chiaramente poi dopo diventa un problema anche psicologico magari per alcuni ragazzi questa cosa è importante quindi se volete fare manga non avete mai fatto un corso io aspetterei a pubblicare perché l'ho fatto e come vedete adesso dopo dieci anni devo rifare la mia storia per renderla appetibile all'estero quindi se riuscite a partire con delle basi comunque buone io so che avevo delle buone basi per l'epoca però facciamo che era un sei risicato se riuscite a partire già col sette e mezzo otto penso sia già meglio perché all'estero il sette e mezzo otto va bene il sei risicato magari no il sei meno meno non gli va proprio tanto bene quindi è qui che casca l'asino con lo studio e soprattutto tanto 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 esercizio giornaliero ci sono anche tanti ragazzi che mi dicono eh vabbè però io non c'ho il tempo di disegnare se non c'è il tempo di disegnare non fai il fumettista tutto lì quello che quello che avrei voluto dire cioè in realtà vale un po' per tutte le passioni secondo me a quel punto no se non hai il tempo da dedicargli cambia cambia proprio obiettivo perché ogni cosa ha bisogno di tempo e di dedizione spesso di investirci dei soldi sopra di investirci anche spesso delle amicizie perché a me è capitato mi è capitato di dover dedicare talmente tanto tempo a questa cosa che magari alcune amicizie storiche che avevo non capivano i miei bisogni o il fatto che appunto dovessi restare a casa per tot motivi perché dovevo lavorare al fumetto perché dovevo lavorare alla fanzine ancora prima di fare il butterfly effect come ho detto prima e purtroppo si sono inclinate delle amicizie e vabbè io sono andata avanti e ho trovato poi delle persone che invece mi appoggiavano in tutto e per tutto e sanno perfettamente che se io per due mesi sparisco è perché sto facendo la perfect sì la perfect perché sto facendo la storia vabbè la perfect adesso sicuramente però insomma il discorso è questo che loro capiscono perfettamente che se sparisco è per una giusta causa e non perché magari non voglio vederli non perché magari c'è quale parte quindi occhio perché potreste anche dover sacrificare dei rapporti con qualcuno e in generale trovatevi qualcuno che vi sostenga secondo me cioè questo è anche un po' è molto importante avere qualcuno che vi sostenga io l'ho detto già all'inizio all'inizio per me è successo tutto un po' al contrario cioè invece di avere persone che mi sostenevano nella vita le avevo su internet e poi invece nel momento in cui ho fatto capire a tutti quelli che mi circondavano i miei genitori i miei amici eccetera che stavo facendo sul serio allora hanno cominciato a sostenermi anche nella realtà cioè nel senso la vita di tutti i giorni e a capire anche appunto queste mie esigenze di dovermi chiudere in camera e non voler cenare perché magari ho una tavola da finire e non posso interrompere il flusso di concentrazione quindi tutte queste particolarità e stranezze che avevo comunque all'inizio che vivevo ancora con i miei adesso un po' meno perché vivo col mio ragazzo quindi vabbè lui pure le capisce queste cose però è molto più usciallo molto più tranquillo vabbè sì se ti devi chiudere in studio non fa niente i miei magari non lo capivano bene poi piano piano si sono un po' rassegnati abituati e quindi al fine tutto a posto però sì è importante che voi facciate capire con la vostra determinazione quanto è importante per voi quanto è seria per voi questa cosa e che vi circondiate di persone non tossiche ma persone che invece vi sostengono e vi aiutano perché non è un percorso facile lo dico standoci proprio dentro e avere qualcuno che ci sostiene ci apprezza e crede in noi è tra l'altro il messaggio di butterfly effect è la chiave per riuscire ad avere successo nella vita in generale ma proprio con se stessi non successo inteso come c'hai i follower c'hai i milioni no no inteso proprio come riuscire a fare qualcosa per se stessi nella propria vita e poi vabbè l'ultima cosa ne abbiamo parlato prima l'ultimo consiglio ne abbiamo parlato prima i social studiate i social studiateveli tanto bene perché un autore adesso non vada nessuna parte senza social esatto cioè sembra una cretinata perché più che altro ancora sono tanto visti come sì il posto in cui cazzeggiare basta però fanno parte anche dei fumettisti che probabilmente seguite voi cioè nel senso e se li seguite e li conoscete anche per questo perché li avete visti lì sopra quindi non c'è storia adesso piano piano il mercato del social si sta ampliando comunque adesso proprio anche nei fumetti tipo case editrici grosse come che ne so jpop star comics eccetera proprio hanno degli influencer che consigliano le cose che pubblicano ma non solo nel campo del fumetto in realtà nel campo di qualsiasi cosa ci sono gli influencer che consigliano quindi noi stessi dovremmo essere influencer delle nostre storie in modo da far riconoscere al pubblico e ripeto non è una questione di follower non è una questione di like è una questione di vendite ed è molto importante capire la differenza la differenza tra like inutili follower inutili e vendite concrete è molto importante se io per esempio avessi fatto un canale dove che ne so faccio i balletti e fossi diventata famosa come Giulia De La Ciana non mi sarebbe servito a niente a livello di mercato di marketing per il mio fumetto perché comunque uno è interessato a fare la foto con me non a comprare il mio fumetto perché magari me mi segue per fare il balletto al massimo mi chiede di fargli il balletto quindi il discorso è tutto lì bisogna essere molto bisogna puntare al tipo di comunicazione giusta per ottenere dei risultati sono d'accordo e vabbè tu è evidente che comunque li hai raggiunti io spero che te ne sia resa conto perché ogni tanto secondo me non ci si accorge magari nel momento in cui ti trovi però in realtà sono molto contenta io per te anche dei risultati che stai ottenendo da fan ecco da lettrice e quindi ti ringrazio a te di essere stata qua con noi e della tua testimonianza perché appunto non lo so ho intrapreso queste puntate in cui volevo approfondire l'aspetto del manga però non solo quello giapponese che comunque tra suggerimenti vari eccetera di quelli ce n'è in abbondanza ma soprattutto del manga proprio a livello italiano quindi non solo l'industria di quello che si porta dal Giappone ma anche quella proprio nostrana e quindi grazie mille del tuo contributo ti lascio per tutti i nostri ascoltatori tutti i contatti appunto di Giulia per poterla appunto continuare a seguire sostenere anche appunto per comprare il suo fumetto appunto ricordatevi che se volete andare sulla fiducia dopo questo episodio trovate già tutti i dodici volumetti dell'edizione originale altrimenti se aspettate un po' di pazienza fino a Lucca Comics diciamo trovate il primo della Perfect che raccoglie comunque già due tre volumetti originali se non sbaglio praticamente sì oddio il primo come abbiamo detto è completamente inedito però dal due in poi sono come due volumi insieme diciamo ok quindi appunto come un tankobon come avevamo detto perciò comunque è una robina carina da avere e da poter dire ecco anche cioè gli italiani sanno fare bene anche i manga e quindi insomma spero vi sia piaciuta questa puntata vi invito a seguirci anche sui nostri social quindi Instagram e Facebook di Stay Nerd a me su Instagram orient underscore alle 94 e ci riascoltiamo la prossima volta bye bye ciao ciao a tutti Japan Wildlife